Buonasera amici telespettatori, ci troviamo questa sera al Marasma Cafè e abbiamo come ospite della serata, il brutto di Ciao D'Arne, cosa può dirci di questa serata? Grazie, sono anche gli applausi, ciao, ciao, ma quanta gente, mamma mia, complimenti, peccato che l'inquadratura non può violarsi, no, non fa niente, senti, bellissima serata Muzio, però, sicuro che prima c'era a mano, diceva vai dietro, però non da dietro, non intendeva da dietro, diceva vai dietro, è diverso, è diverso, guarda quanto è gente abbiamo questa sera, tantissima, ma sono venuti per me, tutti per te, tutti per me, io volevo un desiderio però stasera, Muzio, volevo ceramare nudo, lo avremo, lo avremo, lo avremo, dovete sapere che Angelo viene da una bellissima serata, dopo lo strip degli amici del G-Life, direttamente da Paolo Cessi, non so, è stato bellissimo, infatti ha usato una cartigianica favolosa, è uno strip di merda, abbiamo anche l'amico di Angelo, il signor, non era Natale, Natale D'Amato, un caro amico di Angelo, in arte è brutto come ha questa fama ormai da anni, se la porta a dieci, però fa sempre piacere uscire con lui, perché fa animazione, fa spettacolo, fa scena, è grande Angelo, grazie, grazie, concludiamo come al solito le nostre interviste con una frase in inglese, yes, that's alright, alright, allora, al prossimo appuntamento, malasma, happy hour summer, ciao a tutti! Ciao!